Il PD in conferenza stampa ha denunciato la sparizione di 250 milioni di euro per l'Abruzzo dal fondo complementare destinato alle aree del sisma. Nella sede di Via Paganica, senatori Alessandro Alfieri e Michele Fina con i consiglieri comunali DEM chiedono ora spiegazioni. Tutto è accaduto il 2 marzo. Tagli che vengono mascherati hanno denunciato come rimodulazioni dal commissario Castelli, ma l'Abruzzo è diventata in realtà la regione dei tagli, sostengono. Adesso per trovare i soldi per i comuni a livello nazionale vanno a incidere sul piano nazionale complementare dove c'erano i 250 milioni, anzi erano un miliardo e sette all'inizio per le zone terremotate, tolgono 250 milioni. Li spostano in avanti, dicono io non mi fido, noi non ci fidiamo perché abbiamo visto questo governo come bravo a far sparire le risorse. Siccome sono interventi attesi da tempo da queste comunità che hanno bisogno di quelle risorse per ultimare i progetti per la ricostruzione, però per attese da tempo, noi vogliamo fare questa denuncia con grande forza e vogliamo sapere subito quei soldi, se ci saranno davvero, quanti di quei soldi riguardano questo territorio, in particolare la provincia dell'Aquila. E' atteso, hanno spiegato poi i presenti e questo preoccupa non poco, un decreto che deve decidere ulteriori tagli. L'argomento sarà oggetto di un'interrogazione per avere chiarezza. Fatto sotto traccia e senza che nessuno se ne accorgesse, per idem, è un fatto assolutamente scorretto, soprattutto prima delle elezioni regionali. Cioè ci tolgono i fondi e ci promettono poi, come ha fatto Castelli in relazione proprio a questi 250 milioni rubati alla ricostruzione dei territori del cratere, ci promettono che ci saranno tra un po' di anni, saranno ritrovati, ricercati, spostando tutto avanti. In sostanza, quando bisogna trovare fondi per ripianare progetti di altri territori, si prendono all'Abruzzo. E' già successo per un miliardo e mezzo con il PNRR e adesso succede per 250 milioni con il piano complementare, che fu un progetto da noi costruito, da noi pensato, da Giovanni Legnini governato con grande senso delle istituzioni e non come fa Castelli, andando a tutte le iniziative di partito, quindi un commissario di parte. Questo piano che noi abbiamo pensato con fondi nazionali che si aggiungevano a quelli europei, oggi viene tagliato a danno delle popolazioni dell'Abruzzo.